Nel governato di Pskov, distretto di Poročov, scorre il fiumicello Sudoma, e lungo le sponde di questo fiumicello sorgono due alture, una di fronte all'altra. Su una di queste alture c'era un tempo la cittadina di Vizgorod, sull'altra, nei tempi antichi, gli slavi risolvevano le loro questioni giudiziarie. Raccontano i vecchi che anticamente su quell'altura pendeva dal cielo una catena, chi era dalla parte della ragione riusciva a toccarla con la mano, e chi invece era colpevole non poteva raggiungerla. Un tale aveva preso in prestito da un altro dei soldi e negava di averli avuti. Condussero i due sull'altura di Sudoma, e ordinarono loro di toccare la catena. Quello che aveva dato i soldi sollevò la mano, e subito la toccò. Venne il turno del colpevole. Non si rifiutò. Volle solo consegnare il suo bastone, da tenere, a colui con cui era in lite, per poter con più facilità raggiungere la catena. Tese le mani e la toccò. Tutti si stupirono. Come potevano entrambi aver ragione. Il fatto è che il bastone del colpevole era vuoto, e dentro la cavità erano nascosti i denari che gli negava di aver avuto. Quando aveva dato da tenere il bastone nelle mani di colui al quale era debitore, gli aveva dato con il bastone anche i denari, e perciò aveva potuto toccare la catena. Così ingannò tutti, ma da allora la catena risalì in cielo, e non discese più. Così raccontano i vecchi.